bene tra poco è ora di andare a mensa vieni giorgino andiamo a giocare c'è ancora un po' di tempo prima di andare a pranzo io sono diva ho le zampe palmate e ho una bellissima voce io sono pio sono verde e mi piace saltare e nuotare io sono giorgino sono celiaco e mi piace giocare che cosa vuol dire celiaco? significa che non può mangiare alimenti che contengono una proteina chiamata glutine pane, pasta, cracker, biscotti, pizza adesso sbrighiamoci è ora di andare a mangiare finalmente a tavola! questo è il tuo posto riconosco il pane di mais lo trovo delizioso ma allora tu vuoi mangiare il pane? certo basta che sia senza glutine che cosa succede se mangi alimenti con il glutine? per esempio fa male alla mia pancia e non cresco guarda sta arrivando il cuoco ecco giorgino la tua pasta che bello! allora anche tu puoi mangiare la pasta basta che sia senza glutine mangiate con calma! poi ci sono degli ottimi pomodori vado a prenderli! a me i pomodori non piacciono! ma che cosa dici? sono molto buoni e hanno tante vitamine che ti proteggono dal raffreddore hai ragione! ne voglio una porzione doppia Giorgino! Giorgino! ciao! devo andare con la mia mamma per preparare la festa del mio compleanno compio gli anni domani! vi aspetto tutti eh! ciao! a domani! domani per la tua festa prepareremo una gigantesca macedonia di frutta dolci con farina di riso, mandorle, mais e un vagone di pop corn andiamo a comprare il necessario a domani per la tua festa! a domani per la tua festa! a domani per la tua festa!